La maglia di titolare bisogna sudarsela a tutti, quindi aspetta a me, aspetta a tutti. Poi ovviamente il mio ruolo centrale, ma ovviamente per le mie caratteristiche mi posso anche adattare esterno, destra, sinistra, senza nessun problema. Il mister è molto preparato, sa proprio tenere i ragazzi, farli diventare più forti, ha un buon rapporto, quindi ci crede tanto in noi e noi crediamo tanto in lui, quindi siamo un buon gruppo, è un buon rapporto, quindi speriamo bene per il resto. Siamo trovati bene, ancora ci sono cose da aggiustare, comunque abbiamo fatto tre amichevoli, ancora ci sono tante cose da aggiustare, però secondo me abbiamo una buona squadra, possiamo fare bene. Diciamo gli importuni, non ne voglio sentire più parlare perché ormai ne sono anche stupo, voglio dare sempre il tutto, arrivare a fare una buona stagione, aiutare la squadra e soprattutto farmi vedere più che posso. È stato un buon test e comunque ci fa vedere che siamo preparati, siamo pronti per iniziare il campionato e al di là dell'Entella o qualsiasi altra squadra, penso che scenderemo in campo per lottare per ogni punto possibile. Come esordio è stata un'ottima prestazione sia di squadra, essendo anche la prima dove contava qualcosa, è una buona prestazione sia individuale che di squadra. Io sono venuto qui per cercare di migliorare, che ci sia uno o un altro o meno, gli stimoli li trovo da solo perché sono qua per migliorare, per giocare, per fare di tutto, quindi per fare bene e mettermi a disposizione quando il mister mi chiama in causa. Quindi se ci sia uno o un altro, diciamo io lo faccio sempre per me stesso, mi alleno giorno dopo giorno sempre a mille per fare bene e farmi trovare pronto poi la domenica. Superare il turno era importante, abbiamo dimostrato comunque che ci siamo, siamo pronti per il campionato. Era la prima partita, come ho detto prima, era la prima che contava, era un dentro fuori e abbiamo risposto bene. Quindi penso che la squadra sia pronta per questo inizio del campionato. I automotismi del mister comunque li conosco dall'anno scorso, che ho giocato già con lui a Caserta. Comunque per lui è un gioco proprio positivo, non chiede mai di stare dietro, comunque chiede sempre un gioco in avanti, un gioco proprio positivo. Quindi per entrambi i terzini ci chiede di spingere, ma anche di difendere allo stesso modo. La squadra mi ha accolto subito bene, mi sono trovato subito bene con tutti, ho trovato già un bel gruppo legato veramente con tutti. Possiamo fare secondo me molto bene perché il gruppo penso sia fondamentale nell'arco di un campionato.